L'Ateneo diventa sempre più sportivo. È stato siglato un accordo tra Modena Rugby 1965 e Università di Modena Reggio Emilia che prevede per gli atleti studenti un sostegno nelle attività didattiche e sportive e altri servizi. In questo modo andiamo a concludere un cerchio che ci vede da tempo coinvolti nell'attività con le scuole inferiori e con le scuole superiori e adesso con l'università di tutt'altro genere ovviamente l'accordo, però certifica un po' la nostra attitudine e la nostra volontà di lavorare nell'ambito scolastico. 50 anni fa è nato il Modena Rugby da tre persone che facevano parte del CUS Rugby e che si sono staccate per fondare il Modena Rugby per cui diciamo siamo un po' tornati alla casa madre. Sì, oggi firmiamo la convenzione con il Modena Rugby, è un accordo, una convenzione che segue altri accordi già siglati quest'anno nel campo della pallavolo, del basket, è un modo per avvicinare sempre di più lo sport alla nostra università in particolare metto in condizione i nostri studenti di praticare le società sportive e quindi di abbinare al tempo dedicato allo studio anche una pausa temporale per lo sport e credo che questo possa sicuramente essere una cosa positiva per loro per la loro crescita e nel complesso anche per un accrescimento della cultura sportiva. La convenzione con Modena Rugby 1965 si inserisce nell'ambito dei protocolli di intesa che noi stiamo attivando su tutto il territorio modenese e reggiano per promuovere l'attività sportiva tra i nostri studenti. In particolare da un punto di vista di promozione cercheremo di avviare al Rugby A7 sempre più ragazzi e ragazze e dal punto di vista del supporto alla società sportiva cercheremo di mettere a disposizione tutti i nostri servizi per far sì che studenti che fossero anche atleti possano trovare in Università di Modena Reggio Emilia l'ambiente più favorevole per svilupparsi dal punto di vista atletico ma anche dal punto di vista cerebrale.